Sono attorniate da rabbia, dolore e voglia di giustizia le parole espresse da Igor Unusic, il fratello di Alex Unusic, triestino 44enne che ha perso la vita a mercoledì sera a causa dell'esplosione della porta a vetri del padiglione delle docce del camping Mont Perin di Valle d'Istria. Si tratta di omicidio e per questo faremo causa al campeggio, ha detto in maniera molto decisa il fratello di Alex, rimarcando come non sia possibile morire in questo modo e lasciare che senza spiegazioni e senza responsabilità venga chiusa o quantomeno superata la vicenda. Un indizio che potrebbe far pensare a una rapida archiviazione dell'accaduto è il mancato sequestro del padiglione incriminato che è stato delimitato dalle strisce dei nylon soltanto per le operazioni subito dopo il tragico evento. In più ci sono altri padiglioni con altre porte a vetri identiche a quelle esplosa e che ha causato la morte di Alex, lasciate nell'immediato al loro stato operativo ordinario, cui soltanto in seguito è stato apposto un cartello che indicava di non toccare il vetro. Infine raccontano i familiari una gestione umana apparsa fredda da parte del personale del campeggio che si è messo a disposizione per il pagamento del trasporto della salma, adottando però un approccio alla vicenda molto distante, non un gesto di conforto, non un bicchiere d'acqua offerto, solo una comunicazione formale per poi andare via. L'appello delle persone vicine ad Alex quindi è quello di fare giustizia affinché venga fatta luce sulla responsabilità dell'incidente, facendone parlare, alzando la voce per non far passare nell'oblio la morte di un uomo, un padre di 44 anni, a causa di una porta a vetri di cui nessuno al mondo dovrebbe aver paura.